È passata un'altra giornata, ma la musica non è cambiata. Di Antonella di Massa, scomparsa sabato scorso, ancora nessuna notizia, ancora nessuna traccia. E tutto questo dopo che anche oggi le forze dell'ordine, i soccorritori specializzati e i volontari non hanno lesinato i loro sforzi. La 51enne casamicciolese però rimane introvabile, un fantasma. Una cosa è certa, il rilevamento dei cani molecolari della sua presenza a Panza ha davvero mutato e non poco lo stato dell'arte. Le ricerche infatti non sono più circoscritte all'aria di Succhivo e dalla sua folta vegetazione, ma hanno visto decisamente esteso il loro raggio d'azione. Con un ragionevole sospetto che da Panza Antonella possa tendenzialmente essersi indirizzata in ogni angolo dell'isola e si spera non oltre. Non è un caso che da questa mattina la locandina con la sua foto capeggi un po' ovunque, anche e soprattutto ai terminal degli imbarchi dei porti isolani, proprio per fare in modo che, nei limiti del possibile, un suo transito in quelle aree strategiche non passi inosservato. I giorni passano però e il tempo che trascorre non gioca a favore di chi dà la caccia ad Antonella di Massa. Nel pomeriggio si è tenuta una videoconferenza da remoto, nella quale il prefetto di Napoli ha disposto che le ricerche debbano proseguire con l'attuale dispiegamento di uomini e mezzi senza sosta fino alle 18 di domani, giovedì 22 febbraio. Quando poi ci sarà un altro meeting per capire se l'attività, che lo ricordiamo è coordinata dal comandante della Compagnia dei Carabinieri di Ischia, Tiziano Laganà dovrà proseguire o cesserà con le attuali modalità, cosa che purtroppo prima o poi dovrà accadere.